Cosa è la meningite virale? Le meningi sono membrane piene di sangue che proteggono il midollo spinale di una persona e l'area attorno al loro cervello. La meningite virale è ciò che accade quando i meningi vengono infettati da un virus. Esistono altri tipi di meningite che non sono virali, ma la varietà virale è più comune. Diversi virus hanno il potenziale di causare la meningite virale. La maggior parte dei casi di meningite virale è causata da una famiglia di virus chiamati Enterovirus. A volte altri virus possono causare anche questo, tra cui il virus dell'herpes e alcuni virus trasmessi dalle zanzare. La maggior parte delle persone è in realtà semi-immune a molti dei virus che possono causare la meningite virale, quindi anche se sono esposti, di solito non si ammalano. In generale, la meningite virale è contagiosa. Il metodo di trasmissione può essere molto diverso a seconda del virus specifico coinvolto. Alcuni richiedono il contatto con la materia fecale e alcuni possono essere diffusi dal contatto con la flema di un'altra persona. È possibile che una persona evite di diffondere la meningite virale limitando il contatto fisico con altre persone, lavando le mani dopo aver usato il bagno e coprendo il viso quando sternutisce o tossisce. Quando le persone prendono la meningite virale, diventano spesso irritabili. Possono sviluppare febbre e talvolta si ammalano e iniziano a vomitare. Uno dei sintomi caratteristici è una rigidità al collo e molte persone non sopportano luci brillanti. Un altro sintomo comune è una sensazione generale di stanchezza insieme a un mal di testa. I sintomi di solito si sviluppano entro sette giorni dall'esposizione al virus. L'unico vero trattamento per la meningite virale è aspettare. Come la maggior parte dei virus, non ci sono cure reali oltre a lasciare che il sistema immunitario del corpo lo combatta. La meningite virale non è di solito un problema molto grande, e le persone sono generalmente in grado di superare la malattia entro un paio di settimane. Alcune forme di meningite batterica sono molto più pericolose e i sintomi possono essere molto simili. È importante che le persone prendano molto seriamente qualsiasi segno di meningite e richiedano assistenza medica il più presto possibile, perché non c'è modo di essere assolutamente sicuri se si tratta della varietà virale o batterica. La maggior parte dei casi di meningite virale si verifica nei bambini. A volte può essere difficile individuare i sintomi nei bambini piccoli. Quando i medici stanno cercando di diagnosticare la malattia, di solito prendono un campione di liquido spinale ed eseguono test su di esso. In alcuni casi, possono anche eseguire un esame del sangue.